Per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 dobbiamo unire le forze e per fare gol serve un gioco di squadra. I governi, le imprese e i cittadini devono necessariamente inseguire obiettivi comuni e andare nella stessa direzione. Le università hanno un ruolo centrale in questa partita. L'Università di Siena coordina una rete di 60 Atenei appartenenti a circa 15 paesi del Mediterraneo con l'obiettivo comune di proporre soluzioni innovative per migliorare le condizioni economiche, sociali ed ambientali di queste comunità. La sfida è difficile, lo sappiamo, ma tutti insieme possiamo riuscirci. Grazie a tutti.